che cos'è la happy genetica è tutto un condensato di pratiche del benessere che ci permettono naturalmente di incidere e di agevolare la nostra struttura, la nostra epigenetica da questo punto di vista perché ad esempio quando ridiamo scateniamo tantissima chimica perché quando meditiamo siamo nel nostro presente perché quando ci riposizioniamo sul flusso del nostro respiro autentico non c'è più spazio per nessuna divagazione o malattia mentale e allora è stato un onore per me coinvolgere così tanti scienziati, medici e persone interessate anche nell'esplorare Happy Genetica